Per Santa Barbara, fuoco! Un boato e un'alta colonna di terra e fumo. È stato fatto brillare alle 12.15 l'ordigno bellico disinnescato ieri mattina a case bruciate nei pressi della 14. Un'operazione conclusa in tempi record grazie agli artificieri di reggimento genio ferroviere di Castelmaggiore che in meno di un'ora hanno rimosso la bomba d'aereo del peso di circa 500 kg, poi sata con una gru e trasportata nell'ex cava della pica. Le complesse fasi di distruzione dell'ordigno hanno comportato sinergico intervento di vari enti e comandi di forza e di polizia coordinate dalla prefettura. Sul posto il vice prefetto Antonio Angeloni. La prefettura ha costituito il centro di coordinamento soccorsi presso la sala operativa integrata della regione Marche dove confluiscono tutti i soggetti interessati dalle operazioni di bonifica. In particolare, oltre alle forze di polizia e al reggimento genio, i vigi del fuoco, la polizia stradale 118, la croce rossa, tutti i soggetti chiaramente fanno parte di un unicum per una direzione unitaria delle operazioni. Dal punto di vista dell'impiego di uomini sono circa 100 unità distribuite tra forze di polizia, polizia locale, esercito e volontariato. In particolar modo il volontariato ha una particolare rilevanza anche dal punto di vista del supporto a tutti i cittadini cercando di alleviare i disagi per quanto riguarda le operazioni di evacuazione, per quanto riguarda il rientro nelle proprie abitazioni. Direi che al momento le operazioni stanno procedendo secondo la normale tabella di marcia. Rientro che è avvenuto intorno alle 10 quando è rientrato l'allarme ed è ripresa anche la viabilità nel trattofano cattolica della 14 e in strada a Montefeltro. Il quartiere di case bruciate nel frattempo è sempre stato presidiato per le operazioni di sgombero dei 900 residenti iniziate alle 6 del mattino. I volontari passavano nelle vie con i megafoni invitando la gente a uscire di casa. Per le persone che non hanno una sistemazione autonoma è a disposizione la vita in srigo arena. Mentre il 118 trasferiva disabili e malati al Galantara e a Macerata Feltrea. Predisposti anche i posti di blocco per impedire l'accesso nella zona rossa, per l'accoglienza invece è stata messa a disposizione la vitrifrigo arena. E la questione come è andata? Va bene, siamo seduti, parliamo, abitano vicini e non ci si vede mai. È un'occasione per scambiare i punti di vista. Aspettiamo l'ok per dire ritornate, se no andiamo al ristorante. E andiamo in centro, andiamo a fare una spesa, giriamo un po', aspettiamo che finisca. Perché prendi parti, non sai, avevamo un po' di paura. Sì, aspettiamo, adesso vado al mercato, che almeno mi sento meglio. I residenti sono potuti rientrare nelle abitazioni prima del previsto e il piano si è concluso nel migliore dei modi, senza incidenti. Sì, questo è uno degli ordini più grossi del centro d'Italia che insomma furono lanciati durante il conflitto della seconda guerra mondiale. In realtà nella provincia di Pesaro abbiamo già disinnescato durante quest'anno circa 36 ordigni e dal 2007 360 ordigni, quindi un'attività che facciamo quotidianamente ma che oggi ha particolare rilevanza in quanto creiamo un disagio per la popolazione locale. Per Santa Barbara, fuoco! Grazie! Grazie!